Un punto duro in un campo difficile, forse il più difficile di questo campionato, però a dispetto della classifica il Fogge in Cedit c'è e sarà una delle protagoniste in questo campionato e della filo d'altro c'erano molti. No, no, è un punto importante. Sapevamo di venire qui e di giocare con una squadra forte come il Biceglie, però siamo venuti con molta umiltà, quella che insomma stiamo cercando di mettere in questo nuovo campionato, nel primo anno che partecipiamo a questo campionato. Però credo che oggi la squadra abbia meritato perlomeno il punto per portare a casa il pareggio perché abbiamo avuto anche occasioni per sbloccarla. Purtroppo siamo stati sfortunati, però dobbiamo continuare così, il nostro obiettivo è sempre la salvezza, non cambia niente. Il calendario vi ha giocato un brutto scherzo nelle fasi iniziali, Manfredonia, Biceglie, tutto sommato comunque si è visto un buon Fogge in Cedit con le due formazioni più forti del campionato. Diciamo che la vostra stagione inizia dalla prossima domenica nel derby contro il Sansevero. No, noi tutte le domeniche è difficile perché poi ci abbiamo un Sansevero, abbiamo andato a Corrato, ci abbiamo in muo in casa, quindi incontriamo tutte le squadre forti. Per noi, ripeto, siamo venuti qua con molta umiltà, domenica incontriamo il Sansevero dove l'abbiamo già incontrato due volte in Coppa, non ci è andata bene, quindi domenica ci aspetta un'altra gara difficile. Adesso ci godiamo questo punto ma da domani mattina penseremo al Sansevero. Grazie a tutti.